E allora che risposte ci può dare? Io so solo che voglio una risposta Se hai paura vattene E se non vuoi pagare pago io Tu sei pazzo, stiamo arriscando la vita Per sapere chi è stato il primo uomo a infilare un cazzo nelle tette Sì Sì Tutto Intero Tutto No Questo Questo Poi le fanno